Allora ha deciso, lo facciamo? Prendiamoci il teatro. Ragazzo, lo siete vestiti? Ma grazie a te, grazie a te, un abbraccio, ci vediamo dopo. Ciao caro, ciao da... Ragazzi, va dentro la mia macchina, scusate. Ma ragazzi, un infarto mi è venuto. Antonio, ne resta solo io, eh. Sì, tranquillo. Luca, è grande Luca di Nicola. L'avete sbagliato? No, 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 no. Cercavamo proprio Mr. Festival di Avezzano, eh. Ragazzi, abbassate quella pistola. Gran galà. Pubblico a go-go, ad ogni evento, sempre sia sia l'evento che fa l'uda di Nicola, va bene, eh. Grande Luca, eh. Ragazzi, ma che cosa volete da me, scusate? Allora, come ben sai, noi stiamo facendo una stagione di teatro, di prosa. Io solo, in bocca al lupo, ho capito, volete che ve la presenti? Mi piace, avrà bisogno delle pistole, tutta questa cosa. No, 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 no. Non chiederemmo mai. E che volete da me, allora, ragazzi? Noi vogliamo il tuo pubblico. Esatto, tutti i tuoi spettatori. Ma ragazzi, non è che abbia una formula, c'è una bacchetta magica. Io sono trent'anni che faccio questo 25 di festival. Voi siete, ragazzi, ma insomma, ragazzi, per cortesia, uscite dalla mia macchina. Non avremmo voluto arrivare a questo qua. Ma la fotina. E questo è, scusate, ma no, 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 no. Ragazzi, io non ho soldi, io non ho soldi, ve lo dico subito. Non vogliamo i tuoi soldi, vogliamo i tuoi spettatori, vogliamo il teatro. Ma ragazzi, ma avete sbagliato, dovete andare ad un altro, un altro che vive in una casetta di vetro e ferro. Vabbè, ve lo dico, nel punto informativo, lui ne vede di abbonati, ne fa di stagioni teatrali, è sempre in teatro, avete sbagliato persone, ragazzi. Ma è venuto un infarto, ma che modi sono? Ho capito, ho capito, chi è Alessandro? Non è lui. No, 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 andiamo, andiamo, ho capito, ho capito. Scusi, dottor Vinicola, chiediamo scusa, eh. Ma ragazzi, uscite dalla mia macchina, per cortesia. Stia bene, le foto le lascio qui, eh. Andate, ragazzi. Ragazzi, scusate, no, una curiosità, ma queste come le avete avute, scusate? Una signora gentilissima, come si chiamava? Adriana, Adriana, una signora Adriana. Sono squisita. Brava, eh. Di nuovo, arrivederci, eh. Adriana. Salve, Dio. Adriana. Sì, oddio, mamma. Buonasera. 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 Prego. Mister Massimo Coccia. Il maestro Massimo Frescia. Mister 536 abbonamenti. 701 biglietti di media venduti per evento. 34 eventi. 1750 biglietti venduti per fatti smicchi. Dove ne avete preso questi numeri, scusate? Non sono affari che ti riguardano. Noi volevamo sapere come si fa, come si fa a fare questi numeri. E tutti questi numeri adesso li giri a noi. Ma voi, oltre che di pistole, di cosa vi occupate? Noi siamo il nuovo che avanza, l'arte fresca della città. Il nuovo? Il nuovo teatro, la nuova prosa. Il teatro di prosa. Cioè, quei matti, il parcoscenico, vogliono farci credere che sia il parcoscenico della vita. Ma quelli lì sono matti che fingono. Che fingono? E recitano. Vabbè, comunque sia, adesso tu ci giri a noi tutti questi numeri, eh. Ma, cosa dite? Noi ci occupiamo di musica, l'unico linguaggio vero che trasmette emozioni, sentimenti. Cioè, gli spettacoli che fai tu non sono del teatro dei marzi, della prosa. Ma no, prosa assolutamente no. Per la prosa dovete rivolgervi ad altre persone. Persone famose che stanno magari spesso in televisione. Ecco, questo è un esempio. Io questo lo conosco, l'ho visto in televisione una volta. Mai visto. Una volta l'ho visto. Ma, fatti Smith, non era l'ex moglie attrice di Tom Cruise? Oh, moglie di Tom Cruise. Ma per piacere, signori, accomodatevi fuori, eh. Ma queste sono bestemmie. No, a diretti. Fa cose da pazze. A diretti. Il 9 novembre 2018 parte la stagione del teatro indipendente di Arezzano. All'opera della premiata ditta Pellegrini Martorelli. Accorrete numerose. Ciao! Dove vi l'ho detto? No, su, dai. A parte che non si è stato manco tanto allegro a questa cosa. Ma che devo fare? Non so, dieci volte che la proviamo. Io non ce la faccio più. Ma liberatemi, no? Ma che vuoi? Ma che c***o siete vestiti? Sì, ma che guarda, le chiede Matrix. Ma fate le persone serie, davanti. Io devo andare in bagno. Non andare in bagno. Sti c***o, sì. Sti c***o, si senta un bagno. Non fa. Eccomi, il tuo. Adesso fate questa promozione e facci questa cosa. Sei capo? Non è tutto il teatro. Ok, non sei capo. Sei capo? No, capo, il capo. Quello che dovete fare, che c***o? Ma come, ma come quello dovete fare, quello dovete... Ma per me è vero chiedete che dovete fare. Su, eh. Il capo, il capo. Io non c'è il capo di niente. Avete preso quello sbagliato? Ecco, eh. E anche là, guardate, pure gli altri, tutti sbagliati sono. Non avete a zeccare la tua, porca mia, ma guardatevi bene, prima, almeno, no? Ma non comandi, non comandi. Ma che comando io? Ma non è di un guanciale. Eh, eh, guanciale. Di giornale. Eh, di giornale. Non potete neanche immaginare quanto è cattivo il capo. Non lo sapete? Ma trattate il capo, vi trova pure. E io? Ma, ma, ma anche questo è un c***o. È anche necessario che lo cerchiate, è lui che vi troverà. Eh, quando vi troverà? L'altro che ti erano indipendente. Le arance in galera vi dobbiamo portare a questi due. È inutile farlo stare, che vi levano questi c***o di costumi, dai! Ecco! Guarda il bagno. Guarda, tu, ma lo sai? Intanto, andiamo a vedere, andiamo a trovare altre persone. Quale? Un'indizio. Ma andiamo a vedere? Andiamo a vedere, andiamo a vedere, andiamo a vedere, andiamo a vedere. No, voi prima mi liberate, poi andate dove ti vado. No, no! Sono sei ore che sto negato qua! No, 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 no oh e tu? volevano il teatro pagliacci ma come cazzo vi siete vestiti? ancora? ma dove c'è? io? ma lui si lui bravo ma bravo volevate il teatro Ermano i lettanti no, per voi donne Ermano guanciale di ricordo il teatro sono io qua comando io però state simbatici questa è la chiave del castello se volete andate là diciamo qua il castello non ci fa io non lo so il castello il novembre il primo assaggione il piatto indipendente lini al castello il singolo non è che c'è un'alternativa qui è sta chiave che cosa faccio più? Ermanno! Don Ermanno! Montignore! Eccendenza! 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 Cilindri! Ma che terri? Uff! Sto a pensare a Lino! A chi? A Lino Guanzaro! Perché? Perché sta ancora legato dentro! Andare in bagno! Sto a pensare a Prozento Sino! Ascoltare Grazie a tutti